San Prospero di Reggio Emilia Vescovo e protettore di Reggio Emilia, vissuto tra il V e il VI secolo, fu strenuo difensore del sacramento del battesimo. Il suo culto si affermò a Reggio sin dal periodo Longobardo, sebbene attestato con sicurezza solo dall'822. Reggio Emilia ha dedicato al santo la diocesi la cattedrale, edificata forse sul suo sepolcro, e un monastero. La presenza di più luoghi di culto retti da diverse comunità religiose comportò una disputa sull'effettiva locazione delle reliquie. Le diatribe terminarono nel 1601 con l'unificazione di tutti i resti attribuiti al santo sotto l'altare di San Prospero di Castello. La sua vita è stata composta anche sulla identificazione di Prospero, Vescovo di Reggio Emilia, con Prospero di Aquitania. La sua vita è stata composta anche nella situazione di QTSS.